O sei qui o sei qui osi? Allora non vi spaventate oggi mi vedete in questa veste un po' dark, un po' così, perché ho fatto questo make up con la duo chrome di neve e non lo so, ci stava bene questo smoke and purple, quindi ho detto ma si dai chi se ne frega, cioè il bello è che ho tipo la finestra, ovviamente oggi è nuvolo no? Io ho deciso di fare un video, ho fatto un sole che spaccava le pietre fino a ieri, oggi è nuvolo e vabbè, per chi non lo sapesse ancora, sì mi sono tagliato i capelli, penso che ormai, cioè penso che si sia notato insomma, non fate caso alla forma del menga che hanno oggi ma li ho tenuti legati fino a poco fa quindi hanno questa forma un po' vedete qua, un po' particolare. Non riesco a vedere bene lo schermino di controllo perché ho rigirato un po' le cosiddette tapparelle, come le chiamate? Come si chiamano quelle che si tirano su? C'è un nome per queste tende, non ho mai capito quale fosse, non le tapparelle ma quelle all'interno, sapete quelle che si possono anche orientare così, vabbè comunque chi se ne frega. E le ho un po' orientate in modo tale che entrasse la luce naturale quindi mi sto ciecando ma nulla che non abbiamo già fatto no? E vabbè, volevo fare questo video perché mi ha contattata qualche giorno fa una boutique online tedesca che si chiama Happiness Boutique, del quale vi metterò il link qui sotto senza problemi. Mi ha contattato qualche giorno fa e mi ha detto, mi ha chiesto se volessi provare una delle loro collane, allora io sono una di quelle che non apprezza molto le collaborazioni con i siti perché in genere sono siti cinesi che spediscono delle cose di poco valore, cioè non di poco valore, però di poca qualità, ecco non di valore perché il valore chi se ne frega se la qualità è buona ma costa poco, meglio ancora. Però appunto vendono queste cose di scarsa qualità e poi dopo ti chiedono di fare una review e tu che dici? Che fa schifo? E ti rompe anche un po' dei fast review così perché obiettivamente a me dispiace tra virgolette sputtanare le aziende, no? Quindi, a parte quelle che se lo meritano veramente. E quindi praticamente questa azienda mi ha detto, siamo un'azienda tedesca, vorremmo che tu provassi una delle nostre collane, scegli tu quale, anzi, e poi te la mandiamo per fartela provare e tutto quanto. Allora io ho pensato, beh, azienda tedesca, forse roba non cinese, proviamo. Sono andata sul sito e mi sono innamorata di due collane completamente diverse l'una dall'altra. Se dovessi riuscire a trovare l'altra ve la metterò qua, se dovessi riuscirci, altrimenti pazienza, altrimenti vi metterò il link sotto. E queste collane, appunto, erano completamente diverse. Loro mi hanno detto scegliene una, poi magari se la collaborazione dovesse continuare, appunto, te ne manderemo un'altra. Insomma, vabbè, io alla fine chi se ne frega, voglio dire, non è che ho bisogno di questi per comprare le collane. Però, ho detto, vabbè, mi hanno spedito. Il pacchetto che tra l'altro ci ha messo anche poco, perché è stato spedito il 14 settembre e a me è arrivato più o meno verso il 20... Cioè, tipo, hanno spedito un giovedì, no, una roba del genere, è arrivato il martedì, ma non mi ricordo esattamente, comunque... Cioè, ci ha messo poco, anche perché veniva dalla Germania. E il pacchetto è questo qui, c'è scritto Deutsch Post, quindi a dimostrazione che veniva dalla Germania veramente. C'è anche il loro loghino Happiness Boutique. E, cosa dirvi, la busta ha la pluriball. I miei vicini, molto carini, hanno cercato di aprire per vedere che cosa fosse, ma sono rimasti fregati perché dentro c'è una scatola, quindi non hanno voluto vedere e fregare quello che c'era dentro. La scatola è molto carina perché è in cartone abbastanza rigido, come sentite dal rumore. Mi sembra uno di quei video di ASMR, tipo... E, appunto, c'è il loro logo sopra. A me questa cosa piace molto perché mi piace molto quando un'azienda cura i dettagli, no? Un po' come la Hotterbox, anche loro curano tantissimo i dettagli. E, parlando proprio di dettagli, vi faccio vedere esattamente il contenuto di questa scatolina. Il contenuto si presenta in questo modo, cioè c'è praticamente il loro bigliettino da visita, un bigliettino in carta velina e una cartolina. E poi c'è la velina sempre con il loro logo sopra. Allora, è molto carino perché c'è questa qui, questa velina qui, c'è scritto, in inglese logicamente, trucchi della nonna per il mantenimento, insomma, dei gioielli. E, appunto, c'è scritto, punto primo, non metterli a contatto con dei liquidi, quindi profumo, queste cose qui. Punto due, metterli in una busta chiusa o in una scatola, conservarli in una busta chiusa o in una scatola. E, punto tre, rimuovere i gioielli quando dormite, fate la doccia, nuotate o fate sport. Perché tutte queste sono tutte cose che possono ossidare. Poi si sa che il sudore rovina un po', va ad ossidare un po' il... Ecco, adesso c'è il sole. Adesso, eh! Vai! Il gioiello e quindi lo possono fare... lo possono rovinare, insomma. Dopo questo c'è il loro bigliettino da visita con tutti i loro contatti, che io vi metterò anche qui sotto nell'info box, così almeno avete tutti i contatti disponibili. Loro sono anche su Instagram e su Instagram sono chiocciola happinessbtq, scusate, happinessbtq, poi ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione. E mi hanno mandato questa cartolina molto carina, fatta tipo Polaroid, della Torre Eiffel. Scusate, io ovviamente non... vabbè, non ve la zumbo perché non serve. Con, appunto, scritto dietro a mano, grazie per la collaborazione. C'è anche scritto EXO EXO, con due coricini molto molto carine. Come vi dicevo, la carta velina è piena del loro logo. Questo è il loro logo. All'interno di questa carta velina c'è un sacchetto in organza, con il gioiello e sotto c'è l'ovatta. Quindi, se voi dovesse anche scegliere di regalare questo tipo di gioiello a qualcun altro, la confezione è molto molto carina e merita, secondo me, cioè è un'ottima idea regalo. Sulla collana, perché io l'ho già provata, sulla collana c'era un'altra targhettina con un filo di cotone, presumo. Un'altra targhettina di happiness boutique. E la collana in sé, adesso ve la faccio vedere, se ci riesco, è questa. Ve l'ho già fatta vedere su Instagram. È questa qui, quindi come potete vedere è color oro, perché non è oro, logicamente. È color oro, con questi grossi diamantoni, tra virgolette, nella prima riga. C'ha tre righe, tre fili di catena, praticamente. La prima è questa qui con questi brillocchi, la seconda ha queste perle piccoline e la terza ha delle perle sia grandi che piccoline. Così, poi qui finisce con due. E queste collane vanno molto attualmente. Allora, di fattura non è male, sinceramente. Non è nulla di meno di ciò che si trova, che ne so, da Zara, da H&M, in questi negozi, in questo modo. Forse è anche leggermente meglio. La cosa che mi preoccupa principalmente sono gli anellini che collegano queste catene tra di loro. Sono dei piccoli anellini fini, coloro oro anche loro. Vedremo un pochettino sul lungo termine come andranno a finire. Qui, alla fine, ha una catenella fina, fina, fina. E alla fine proprio c'è una specie di piastrina di madreperla. Cioè, sì, sembra madreperla nero. Qui c'è il gancetto dall'altra parte. Io adesso proverò ad indossarla, non tanto perché non sia capace, ma per il fatto che hanno messo il gancetto... Non so se possa... Scusate, zoomiamo per far vedere questa cosa. Hanno messo il gancetto... Sì, zooma su di me, vabbè. Hanno messo il gancetto verso l'esterno. E io la... Cioè, vedete la collana come è fatta? Il gancetto è verso quello che io considero l'esterno, verso il sopra, diciamo, verso il soffitto, se volete. Ed è una cosa che non mi aggrada particolarmente perché preferisco quelli verso l'interno. È più semplice, secondo me, per poterli... Cioè, per potersi mettere una collana da soli. No? Che cosa dico di strano in questo momento? Ora vediamo... Ci metterò vent'anni, logicamente? No, ecco. Allora, la collana si presenta così. Una volta indossata. Poi, ovviamente, uno se la sistema come meglio crede. Io poi ho il collo un po' grosso, quindi magari ad altre persone con un collo un po' più fino potrebbe stare più comoda. E quindi questa qui... Poi a me piace tantissimo il rumore che fa. Ne ho una simile di Zara, sempre di questo genere qua, che ho messo anche per il matrimonio di Gigia. E... di Angela. E, appunto, questo mi piaceva molto perché fa molto bon ton. Delle ragazze mi hanno detto che richiama un pochino quella di Caroline di Two Broke Girls. E effettivamente un pochettino la richiama. Sebbene su altri siti ci sia proprio la copia spiccicata di quella lì. E secondo me è molto molto bella perché, vabbè, io l'ho messa insieme a questi orecchini copia spudorata di Dior, se non mi sbaglio, perché sono comunque delle perle. Però si possono mettere anche con degli orecchini un po' più piccoli, sempre perla, sempre di perle, oppure magari degli orecchini di zirconi, come questi, per richiamare questi qua. E il prezzo, ve lo scrivo insomma l'impressione perché devo andarlo a ricontrollare perché sapete, spesso questo tipo di sito fa delle offerte, delle cose del genere. E... Cos'altro dirvi? Allora, la qualità per adesso mi sembra piuttosto soddisfacente. Io ci vedo sempre meno perché ho sole, tipo... così. Allora, eccola qua. Ve lo metto pure a fuoco. Ecco, questa è la collana. Scusate, come vedete, non sono preparata per fare questo tipo di video perché non è il mio genere, no? Fare questo tipo di video. Allora, qui appunto potete vedere che ha gli zirconi, insomma, queste pietre simil diamante, insomma. La seconda fila con le perline piccole e la terza fila con le perle più grandi. Scusate il taglio, ma sono andata apposto, proprio apposta a vedere, sono sul sito in questo momento, sono andata proprio apposta a vedere il... il prezzo della collana e infatti avevo ragione a non filarmi della mia memoria perché il prezzo originale, cioè il prezzo pieno è 32,90 euro però adesso è in sconto al meno 18% e appunto il prezzo è di 26,90 euro quindi ho fatto bene a non guardare subito. E il sito è molto carino, molto colorato ed è... cioè proprio loro si dichiarano un sito che si occupa principalmente di Statement Jewelry. La Statement Jewelry praticamente è... ora vi faccio vedere un pochino il sito, ecco, vedete qua dall'iPad però si vede poco perché c'è il riflesso. il... la Statement Jewelry è quel tipo di di bigiotteria un po' come dire molto importante, no? Quindi che appunto che vi vesse un outfit. Io per esempio in questo momento ho un maglioncino stupidissimo di H&M Bordeaux e questa collana lo illumina completamente ma loro hanno appunto anche orecchini, anelli, bracciali, cioè c'è un bel po' di cose. Io andrei a dare un'occhiata non perché ve l'ho detto io ma perché a me queste cose poi mi incuriosiscono sempre specialmente se non sono cinesi perché effettivamente non tanto per disprezzare il lavoro che fanno ma più che altro perché spesso sui siti cinesi i gioielli sono tutti uguali, no? La bigiotteria è tutta uguale hanno sempre più o meno le stesse cose su per giù e queste invece sono un po' più ricercate. Certo, vi deve piacere il tipo perché non tutti amano mettersi una collana come questa magari c'è gente che vuole cose un po' più discrete, no? Quindi vabbè. E niente, insomma questo è quello che ne penso per adesso perché comunque non ho cioè sul lungo termine vedremo un pochino come andrà a finire io poi vi farò sapere in caso se dovesse succedere qualcosa speriamo di no e quindi ecco questo era il video per Happiness Boutique spero che vi sia piaciuto spero di esservi stata utile perché comunque ricordatevi che perché io sono un'ansiosa per queste cose ricordatevi che siamo a ottobre che manca solo ottobre, novembre e poi arriverà dicembre dovete fare dei regali di Natale pensateci io sono così io parto in anticipo per i regali di Natale potrei anche cominciare adesso potrei anche cominciare adesso ciao